Sindaco Alessantrini, sopralluogo qui nelle aree ex Cofa, cosa ne sarà di questa zona di Pescara? Sicuramente il senso di questo sopralluogo è agire affinché questo manufatto così impattante, così orribile dal punto di vista estetico, sovente anche ricovero della marginalità più difficile di questa città, venga eliminato. Il senso è che noi abbiamo attivato interlocuzioni virtuose con la nuova regione Abruzzo affinché si proceda alla sua demolizione, questo in primo luogo per recuperare un valore che ritengo assoluto e che va nella direzione della bellezza delle città, perché non sfugge a nessuno quanto impattante sia anche alla vista attraversando il ponte del mare questo manufatto. E poi naturalmente una volta eliminato si dovrà attivare un'interlocuzione con gli stakeholders, come si suol dire, cioè con i portatori di interessi affinché ci sia una condivisione del progetto destinato a superare appunto questo stato attuale dei luoghi. Ne ho parlato spesso in campagna elettorale, intendo far seguito con i fatti alle parole, l'idea cioè di avere un confronto. Io personalmente qualche idea ce l'ho, ma me la tengo per adesso per me, nei competenti tavoli la esporrò. Quello che è certo è che questa situazione deve terminare perché dobbiamo valorizzare appunto questo tratto di riviera, qui dietro c'è il porto turistico che è un altro luogo di bellezza della nostra città ed è indispensabile svolgere naturalmente funzioni di raccordo rispetto all'intero settore. È noto che la proprietà del COFA insiste sul Regione Abruzzo, è noto altresì che l'ex COFA è appostato a bilancio per circa 10 milioni di euro nel bilancio regionale e quindi il senso è questo. Poi naturalmente bisogna trovare le modalità operative più idonee.